Controllare l'udito può cambiarti la vita. Scegli di fare prevenzione nel modo giusto, per tornare a colorare di suoni perduti le tue giornate. Trova il centro sensofon o il punto di consultazione a te più vicino, e scopri come i nostri professionisti possono aiutarti a migliorare il tuo udito. Chiama l'800 857 862 e prenota subito. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS